addirittura lì ti metti allora accendo la luce addirittura perché ti sei messo lì per far vedere che comandi tu sul gattino rosa c'è il gattino rosa lì sotto di te hai visto è stato fino adesso nel presepe io non faccio altro che rimettere sulle statuine lucio guarda guarda qui vedi le pecorelle che butti giù guarda questa pecorella è quella inginocchiata davanti a gesù vedi le altre vanno in processione capito tu guardi sempre tutto muori dove vai fammi vedere fai vedere alle zie guarda mi siedo perché voglio vedere dove vai sta luce è bruttissima lo faccio per farti vedere meglio luci vai al tuo posto dai no stai lì col culo attaccato al termosifone o fa il cinesino il mandarino cinese quando si mette così con le zampine lo chiamo gallina o mandarino cinese sapete quando i mandarini cinesi mettono le mani nelle maniche va bene luci quant'è che non ci pettiniamo tantissimo perché si sente la spina dorsale qua io non ti ho più pettinato invece tu sei contento vero si si sente guarda c'è qualche nodino qua no ti lascio stare dai basta dopo non ti ho più